E invece penso che questo sia un monumento ai caduti delle guerre Probabilmente A parte che è bellissimo Ho toppato la gara nel senso che ci sta il cimitero però Guardate che roba Cioè adesso non vorrei dire niente Guardate che roba Guardate che roba Guardate che roba Questo mi sembra proprio un monumento ai cattoli, era un museo pure.